Nasce un nuovo sportello fiscale attivato da Codacons per la consulenza legale e societaria a tutela delle imprese e dei cittadini. In particolare il servizio si dedicherà alle problematiche legate all'erario. Abbiamo riscontrato che il numero di cartelle ingiustificate o sbagliate è elevato e spesso anche le richieste di tasse ed imposte non è dovuto. Un classico caso di situazioni che si possono anche recuperare è quello dell'IVA richiesta per diversi anni dai comuni sulla tassa di disegno ambientale nella fatturazione che non era dovuta e quindi su questo tipo di somme si possono tranquillamente recuperare facendo ricorso alla commissione tributaria in quanto la Corte di Cassazione ha stabilito in via ultimativa che in realtà l'IVA imposte nelle tasse per la raccolta dell'immondizia non è dovuta perché è una tassa su una tassa. Però sono tante altre le situazioni che noi riscontriamo e in cui riscontriamo comportamenti scorretti da parte dell'Equitalia o comunque da parte dello Stato e a volte riguardano non solo i privati ma anche le imprese. Codacons ha quindi creato un accordo con i professionisti specializzati in questo settore che saranno affiancati da alcuni avvocati tributaristi ed offriranno consulenze gratuite. Per usufruire del servizio sarà sufficiente rivolgersi alla sede riminese del Codacons in via Iano Planco oppure rivolgersi al numero verde 800 05 08 00.